Oltre mezzo secolo di carcere, questo il totale delle condanne inflitte ieri da Carmela Tedesco, giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro, nel processo corrito abbreviato celebrato nei confronti di 65 degli imputati nell'ambito dell'operazione denominata Johnny. Il blitz nel maggio di due anni fa inflisse un duro colpo alla cosca degli arena di Isola Caporizzuto, scatenando un vero e proprio terremoto sulla misericordia della popolosa cittadina del Crotonese, facendone finire in carcere il governatore locale e vice nazionale Leonardo Sacco e l'ormai ex parroco D'Edoardo Scordio, che ha scelto invece il rito ordinario. E proprio Sacco è tra i condannati di ieri, per lui la pena è di 17 anni e 4 mesi di carcere, oltre a 5 anni di interdizione dei pubblici uffici. L'accusa ne va chiesti invece 20, una sentenza pesante per l'ex numero 1 delle misericordie, ma anche per personaggi eccellenti della potente cosca di Indrangheta, Giuseppe Pasquale Arena e Paolo Lentini, il primo e l'ultimo condannati a oltre 16 anni, il secondo a 20. 16 invece le assoluzioni, le motivazioni sono attese fra 90 giorni.